Amici del software open source, benvenuti o bentornati in questa 186esima puntata del podcast di Marcos Box. Mi sa che vi ho stordito con questa intro molto sanguigna. Nel frattempo se sentite rumori di macchine, se vi dà fastidio il ventilatore dietro, se sentite anche rumori di fuscio di vento, me frega niente. Devo stare con la finestra aperta e devo stare con il ventilatore perché altrimenti io a fine puntata non ci arrivo, mi squaglio letteralmente. Perché io vivo a Foggia e come sapete Foggia è una delle città più calde d'Italia. Ci sono adesso di sera, sono le 10.46 del 12 luglio e ci sono la bellezza di 31 gradi nella mia camera. Quindi è bellissimo abitare a Foggia, le fiamme dell'inferto. Nuova puntata del podcast, puntata video come sempre, come da diversi mesi a questa parte. Se ancora non l'aveste fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Marcos Box per poter seguire non soltanto il podcast di Marcos Box in formato video ma anche per poter guardare tutte le video recensioni che pubblico sul canale. Nelle prossime settimane arriveranno alcune video recensioni dedicate a distribuzioni, dedicate a ambienti desktop environment e forse arriverà anche una recensione di un prodotto che ho intenzione di acquistare fra qualche giorno. Io ho visto che molti non hanno parlato di questo prodotto che è stato rilasciato recentemente e che mi incuriosisce e che porterò sulle pagine del blog e porterò nel canale YouTube di Marcos Box. Ma apriamo questa puntata e parliamo della prima ospezione di questa puntata, parliamo di programmi che si sono aggiornati. In queste settimane abbiamo visto il rilascio di Firefox 128.0, la nuova versione, la nuova major release dell'unico vero browser che osa sfidare lo strapotere dei browser basati su Chromium. Firefox ha iniziato ad arrancare sempre di più nei confronti dei browser basati su Chromium, però negli ultimi periodi ha recuperato terreno. Stanno anche lavorando gli sviluppatori per introdurre funzionalità interessanti, funzionalità che andavano introdotte secoli fa, come per esempio la funzionalità di traduzione delle pagine web, che ci ha fatto penale, ci ha fatto aspettare tantissimo tempo, è che non è ancora disponibile l'Ato Mobile, quindi se voi avete che ne sono uno smartphone, soprattutto l'Ato iOS, perché mi sembra che, anzi perché sull'Ato Android si può attivare la funzionalità di traduzione delle pagine, su iOS non si può fare niente. E quindi ci siamo, siamo costretti su iOS, io purtroppo sono su iOS, purtroppo vi farò anche un video di Marco, che cosa, la riprova dell'iPhone, vi avevo fatto una recensione dell'iPhone, sono passato l'iPhone qualche mese fa e vi farò anche una riprova di un utente pentito dell'acquisto. Va bene, dicevo, quindi Mozilla non sta investendo tanto l'Ato Mobile, lo sappiamo tutti quanti, però fortunatamente l'Ato Desktop sta introducendo diverse migliorie per migliorare Firefox e con Firefox 128.0 sono state aggiunte principalmente due cose, la prima riguarda la possibilità di tradurre porzioni di testo direttamente dal menu contestuale e l'altra riguarda delle opzioni per la privacy migliorate. Che cosa consiste questa funzionalità di traduzione? La faccio vedere se seguite il podcast di Marcos Box in formato video su YouTube, potete vedere quello che sto facendo. Vi faccio vedere se io seleziono questa parte di testo delle note di rilascio di Firefox e voglio soltanto tradurre questa parte, tasto destro, e faccio traduci selezioni in italiano. Guarda, Firefox mi tradurrà soltanto questo pezzettino di testo. È una funzionalità interessante che andava aggiunta, a mio avviso, fin dall'inizio all'interno di Firefox. Quando è stata aggiunta la possibilità di tradurre le pagine web, però meglio tardi che mai. L'altra novità che vi dicevo riguardano la privacy degli utenti, Firefox adesso supporta l'API sperimentale Privacy Preserving Attribution, che fornisce un'alternativa al tracciamento degli utenti per l'attribuzione degli annunci, e poi è stata fatta anche una semplificazione della finestra di dialogo per la cancellazione dei dati utenti, dei dati di navigazione e quant'altro. Quindi hanno lavorato per venire incontro agli utenti. Infine su Firefox 128.0 troviamo anche una miglioria che è stata fatta. Firefox adesso supporta la riproduzione di contenuti protetti da siti di streaming come Netflix, anche nella modalità in navigazione privata. Quindi GG per Firefox, che finalmente introduce novità interessanti per tutti quanti gli utenti. Sentite il rumore nella diserzione. Ma perché la gente deve camminare deve fare sempre rumore la sera quando scambina? Passiamo all'altro programma che è stato aggiornato in queste settimane, di cui vi ho parlato, perché c'è stato un nuovo aggiornamento di Shotcut. Shotcut è un'applicazione che è praticamente un video editor gratuito, multiplattaforma, disponibile per Windows, Mac OS e Linux. Si è aggiornato con questa nuova versione, la versione 24.06, che va a introdurre diverse migliorità che migliorano l'esperienza utente. Molto spesso quando si parla di video editor gratuiti, open source, tutti quanti citano KDLive. Però ci sono alternative come Shotcut che meritano attenzione perché sono molto semplici da utilizzare, anzi sono più semplici da utilizzare. Molti utenti le preferiscono a KDLive, anzi molti utenti lo trovano superiore a KDLive. Io non lo utilizzo tanto perché sono un po' ramingo, ultimamente ho fatto edit anche con altri software, però tutti quelli che lo utilizzo ne parlano bene di questo video editor. Quali sono le novità di Shotcut 24.06? La prima è il supporto per Windows, per le CPU ARM64, quindi adesso anche le CPU ARM64 su Windows sono supportate da Shotcut. Poi abbiamo un nuovo codificatore SVT-AV1 che è stato aggiunto, che migliora le opzioni di codifico con questo supporto per questo encoder. Il supporto alle immagini AVIF, quindi questo formato di immagini che adesso viene supportato anche da Shotcut. Nuovi filtri video, tra cui Drop Shadow e Vibrance per migliorare l'aspetto visivo dei nostri progetti. E' introdotto anche un nuovo filtro audio per migliorare la manipolazione del suono. Vabbè, poi tutte e quanti il resto delle novità le potete leggere in exchange, che ho postato sulle pagine del blog. Fatemi sapere se anche voi utilizzate questo software, se lo trovate, se lo apprezzate, se lo trovate migliore anche di KDLive. Lasciate un commento in calce. Passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di una notizia molto importante. Per tutti quanti gli utenti che come me utilizzano driver Nvidia su Linux, che non so chi si diciamo, perché... Nvidia e Linux non vanno mai, anzi, i driver proprietari di Nvidia e Linux non sono mai andati d'accordo. E perchè l'hai scelto, non lo so, non ho ancora capito perchè io ho scelto una scheda video Nvidia e me la sono andata a capare. Poi mi sono andata a capare pure una scheda video di merda in quel periodo, vabbè, questo è un altro discorso. Questo è una buona notizia per tutti quanti gli utenti di Ubuntu, perchè Ubuntu 24.10 utilizzerà i driver proprietari di Nvidia con Wayland come predefinito. La notizia è stata data da Canonical, Wayland quindi diventa la sessione predefinita anche in presenza di driver proprietari Nvidia e questo importante cambiamento è stato reso possibile grazie ai notevoli miglioramenti del supporto a Wayland introdotti da Nvidia con la versione 555 dei driver proprietari. E meno male che è arrivata questa cosa perchè noi con Wayland abbiamo sempre avuto un'occasione di problemi con Nvidia e finalmente anche noi utenti Nvidia saremmo proiettati nel futuro di Linux perchè ormai tutti quanti sono migrati a Wayland. KDE miglioramenti con Waylandi, Gnome e Waylandi, anche se devo essere sincero anche su questa cosa, Gnome ha sempre funzionato meglio rispetto a KDE con Waylandi e c'è anche un altro desktop environment che sarà basato anche su Waylandi che vedremo a breve e che è Cosmic. Cosmic ve ne parlo anche in questo spezzone di puntato perchè c'è una notizia interessante, ecco qui, System76 ha annunciato la data di rilascio di Cosmic, Cosmic ormai lo sapete, ve l'ho detto 51 volte, ve l'ho detto quasi una volta ogni due puntate c'è qualche notizia riguardante Cosmic e il nuovo desktop environment sviluppato da System76 pensato per equipaggiare PopOS ma che sarà liberamente utilizzabile su qualsiasi altra distribuzione che vorrà adottarlo. E' un desktop environment scritto in Rust che sta crescendo sempre di più, sta introducendo sempre più funzionalità, mi piace tantissimo il nuovo corso che stanno dando a Cosmic, recentemente è stata anche, come potete vedere se mi seguite qui nella puntata video, è stata fatta anche una modifica alla Cosmic che adesso è possibile avere anche gli spazi di lavoro messi in alto e questa è una cosa davvero carina, vedete qui un'immagine che è stata postata da System76 Sì, mi piace un casino come stanno impostando il layout di questo desktop environment, davvero bravi, l'unica cosa che non mi piace come al solito di quelli di System76 è il modo in cui scelgono le palette colori, perché le palette colori sono sempre orripilanti, quelle scelte da System76, e quindi avranno qualche problema con i colori, hanno bisogno di una, come si chiama, colori come la Shrine che ha la Chromo che consiglia con i colori, ecco consiglio anche loro di dotarsi di una figura specializzata nella gestione dei colori. Vabbè, perché vi parlo di Cosmic? Perché finalmente abbiamo una data di rilascio, approssimativa, della versione Alpha di Cosmic che verrà rilasciata entro la fine del mese di luglio, quindi ormai mancano due settimane al rilascio, al rilascio della prima Alpha di Cosmic Io non vedo l'ora di metterci sulle mani, spero che sia abbastanza buona da poter essere utilizzata, ovviamente stiamo parlando di una versione Alpha, il che significa work in progress, il che significa mancanza di funzionalità, o bug e quant'altro, però speriamo che con il rilascio della prima Alpha ci sia qualcosa di più, più concreto rispetto alle versioni quelle, e che possiamo provare già da adesso, su, che ne so, Sia su PopOS, ma anche su Fedora, tramite il repository dedicato, di cui vi ho parlato qualche tempo fa, sulle pagine del blog. E in concomitanza con l'annuncio del rilascio di questa versione Alpha di Cosmic, è stato anche annunciato il logo e lo slogan di Cosmic, che come potete vedere è carino, c'è questa O che ricorda l'open source, ma che ricorda anche un computer, quindi stanno lavorando anche sotto il brand per potergli dare una identità a questo Cosmic. Non vedo l'ora davvero di poterlo provare, io diventerò un Cosmic fanboy, se hanno fatto tutte le cose come si deve, diventerò proprio uno fiero di Cosmic, diventerò il numero uno di Cosmic in Italia. Quindi System76, se mi stai ascoltando, io giuro fedeltà a Cosmic, perché mi sta piacendo come stai lavorando. Quindi se volete mandarmi un computer, uno dei vostri computer, l'indirizzo lo trovate su Marcosbox, contattatemi alla mail, non vedo l'ora di collaborare con voi in questo senso. No, veramente, non sto scherzando, Cosmic, anzi scusate, System76, io vi amo, quindi mandatemi un computer. E cambiamo argomento, cambiamo argomento e passiamo adesso a parlare dei rilasci di distribuzioni. C'è stato il rilascio della versione 12.6 di Debian, perché mi sta venendo da ridere, perché Debian è una distribuzione un po' particolare. Quando rilascio le minor release, non è che fa stravolgimenti. Non ci sono stati stravolgimenti in questa nuova versione di Debian, perché di fatto è soltanto un aggiornamento delle ISO, quindi adesso se trovate, se provate a installare Debian, scaricate l'ISO aggiornata, troverete con la 12.6 tutte quante le correzioni. Fino adesso pubblicate. Questo sesto aggiornamento di Debian aggiunge principalmente problemi per correzioni di sicurezza, alcuni aggiornamenti anche gravi. In totale sono 162 correzioni di bug e 84 aggiornamenti di sicurezza, quindi tante cose rispetto al precedente rilascio. Però, ovviamente, se avete già installato una versione di Debian sulla vostra macchina, non c'è bisogno di reinstallare tutto, perché seguendo gli aggiornamenti di sistema siete già allineati con l'ultima versione dei pacchetti. Quindi questo vi interessa soltanto se state installando da zero Debian. E passiamo adesso ad un'altra distribuzione Linux e passiamo adesso a parlare di Linux Mint, che ha anche lì una data di rilascio. La versione 22 di Linux Mint è prevista per il mese di luglio. L'annuncio è stato fatto da Clemente Refebbra nel suo consueto post, quello pensile dedicato allo sviluppo di Linux Mint. Ci sono diversi problemi a cui stanno andando incontro il team di Linux Mint con la versione beta che è stata rilasciata, contestualmente, all'inizio di luglio, con la versione beta di Linux Mint 22. Ci sono tanti bug che stanno cercando di correggere, anche bug molto importanti, bug che causano crash di xorg e anche problemi di flatpack e mint install. Quindi è un vero bagno di sangue per gli utenti di Linux Mint, anziché per gli eserciopatori di Linux Mint che in queste settimane stanno lavorando all'acramente per correggere tutti questi bug e per poter riuscire a dare una versione stabile di Linux Mint entro la fine del mese di luglio. Quindi entro la fine del mese di luglio avremo la nuova versione di Linux Mint e avremo anche la prima versione Alpha di Cosmic. Un bel mese, un bel fine mese che ci aspetta a luglio. Se volete sapere quali sono le novità che troveremo su Linux Mint 22, nomi in codice Wilma, abbiamo un miglior supporto linguistico, abbiamo anche il pacchetto di Thunderboard che viene rilasciato e viene adottato dal team di Linux Mint e viene rilasciato in formato DEB. Poi troviamo miglioramenti per quanto riguarda le librerie alla base di Cinnamon e troveremo anche migliorie per quanto riguarda i temi che sono stati aggiornati per supportare il GTK 4, miglioramenti al supporto HIDPI in premium mount e slick greater nella fase di avvio e tante piccole novità che questa nuova versione di Linux Mint porterà, che sono novità che a molti di voi interessano perché so che moltissimi di voi sono felici utilizzatori di Linux Mint. Io non la disprezzo Linux Mint, anzi l'apprezzo moltissimo come distribuzione perché è una derivata di Ubuntu però ha fatto delle scelte che l'hanno portata anche alla rottura con Ubuntu, ad esempio la scelta di abbandonare, di non supportare i pacchetti in formato Snap che hanno costretto, tra virgolette, il team di Linux Mint a farsi da solo alcuni pacchetti come quello di Firefox, come quello di Thunderbird ma anche a curarsi anche tante altre cose all'interno della distribuzione, quindi lavorano e poi si fanno i desktop environment in casa perché Cinnamon è portato avanti il team di Linux Mint, si stanno portando avanti i discorsi delle X-App che sono delle applicazioni trasversali che funzionano indipendentemente, anzi si adattano indipendentemente dal desktop environment quindi sono funzionali e si visualizzano tutta la stessa maniera su Cinnamon, su Mate, su XFCE, su buggy e quant'altro quindi fanno tanto lavoro quelli di Linux Mint, poi sono sempre molto attenti alle richieste della loro fanbase quindi ci sta, è una delle migliori distribuzioni che ci sta all'interno del mondo del panorama delle distribuzioni Linux ecco, ormai l'ho detto e tutti quanti mi odieranno per questa cosa, sto scherzando di sicuro qualcuno mi odierà per questa frase, perché molti dicono ah, Linux Mint è soltanto l'ennesima derivata invece no, oltre alla base di Ubuntu c'è molto di più Linux Mint non sono soltanto dei lucratori di lavoro altrui ecco, quindi fanno anche del loro e cambiamo adesso l'argomento con le ultime due notizie di questa puntata una notizia che riguarda una vulnerabilità critica scoperta in Open SSH che ad inizio di luglio ha fatto spaventare tantissimi utenti, tantissimi amministratori di sistema è una vulnerabilità che è stata ribattezzata Regression perché è stata ribattezzata Regression? perché è una vulnerabilità che è ricicciata fuori perché era stata inizialmente corretta questa vulnerabilità nel 2006 che è stata adesso, è tornata la ribalta che è stata scoperta questa nuova vulnerabilità quindi sempre basata sulla prima vulnerabilità che si pensava essere patchata ma in realtà non era stata patchata completamente che consente ad un utente malintenzionato di remoto l'esecuzione di codici arbitrali sui dispositivi interessati Open SSH praticamente lo troviamo ovunque quindi ecco perché questa vulnerabilità ha fatto spaventare molti sistemisti che fortunatamente poi il team che esiluppano Open SSH è riuscito a metterci subito una pezza, una patch e quindi hanno corretto questa vulnerabilità quasi subito quindi non è riuscita, che si sa, attualmente non ha fatto tanti danni maggiori dettagli su questa vulnerabilità dettagli tecnici che non vi sto qui a dire perché non sono la persona meno indicata per fornirvi tutti questi dettagli tecnici li trovate nell'articolo dedicato sulle pagine del blog anche perché poi a voce stare a rincare tutte queste cose è un po' antipatico e noioso per voi infine l'ultima notizia di questa puntata è la prima parte di un articolo l'articolo che vi avevo promesso diverso tempo fa dedicato al mio percorso di deguglizzazione io faccio fatica a pronunciare questa frase in questo primo articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog la parte 1 della mia deguglizzazione vi spiego che cos'è il movimento degugl traducibile in italiano come movimento di deguglizzazione che è un movimento che si è sviluppato su internet nel corso degli ultimi anni guidato da attivisti per la privacy per spingere gli utenti a smettere di utilizzare i prodotti di Google in favore di servizi maggiormente attenti alla privacy degli utenti e in questa prima parte di questa mia serie di articoli dedicata alla mia deguglizzazione vi spiego quali sono gli insiti all'interno dei servizi Google delle principali servizi e applicazioni che noi utilizziamo largamente tutti i giorni fatemi sapere che cosa ne pensate seguirò una seconda parte nella quale vi spiegherò quali sono a mio avviso le migliori alternative ai servizi Google e vi spiegherò anche qual è la mia filosofia al riguardo perché non sono uno di quelli che togono tutti quanti di bot tutti quanti i servizi Google perché ammetto che fare una cosa del genere non è semplice per molti di voi però vi spiego come è possibile limitare i danni vi spiegherò anzi come è possibile limitare i danni di esposizione ai servizi ai servizi Google ma non soltanto Google ma anche altri big del settore dell'informatica quindi restate sintonizzati sulle pagine di Marcosbox per la seconda parte nel frattempo vi ripeto lasciate un commento perché ho visto che è già iniziato a postare parecchi commenti interessanti parecchi spunti interessanti lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox o qui sotto sul video su YouTube di questa video puntata del podcast di Marcosbox ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 186esima puntata del podcast di Marcosbox io come sempre mi invito a iscrivervi numerosi a seguirmi sui social mi trovate su Facebook, X, su YouTube sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn mi trovate su Mastodon mi trovate soprattutto poi su Telegram dove se non è attivo con un canale dedicato alle notizie che potete utilizzare anche a modo di feed reader mi trovate con una community Telegram dove potete parlare di qualsiasi cosa non soltanto di argomenti inerenti il software libero open source e infine trovate anche una community Telegram dedicata alle offerte dove posto una serie di link a prodotti principalmente presenti sul catalogo di Amazon con link referral sapete come funziona voi acquistate da un link referral e Amazon mi darà una piccola percentuale trovate anche se volete cercate un prodotto e volete applicare da solo il codice referral di Marcosbox su Amazon lo trovate pubblicizzato anche su blog si tratta di Marcosbox-21 o poi in alternativa cliccate su Tux vi si apre direttamente il link referral su vi si apre dicevo il link referral su Amazon e infine vi ricordo che potete supportare Marcosbox anche abbonandovi a NordVPN il servizio di VPN più famoso e apprezzato degli ultimi anni cliccando sul banner che trovate sull'articolo dedicato sul Marcosbox troverete la migliore offerta disponibile al momento infine vi ricordo che potete questa non è una sponsorizzazione perché sono finiti di fatto gli sconti fino alla fine di giugno avevate la possibilità di acquistare i computer da Reward computer ricondizionati anche con disponibili anche con con Linux da questa interessante ditta italiana che si occupa di riuso di computer computer aziendali computer buoni perché qua si parla di computer che sono praticamente sono ThinkPad sono computer Deg sono computer HP aziendali ottimi prodotti poi i ragazzi di Reward sono anche non soltanto attenti all'ecologia grazie al fatto che stanno in recupero di computer ma sono anche ex-pinguini anzi sono pinguini tutti quanti non ex-pinguini sono gente che si è formata all'interno dei Google e quindi sono amanti anche loro del software libero open source e commercializzano anche volendo vi pre-installano sul computer che vendono anche Linux un servizio che viene offerto totalmente gratuitamente da parte dei ragazzi Reward io non ci guadagno niente voi fino a giuno ci potevate guadagnare anche un cogi di sconto quindi perché ve lo sto riproponendo perché ho lasciato il banner sulle pagine dei blog perché trovo interessante questo progetto trovo interessante il progetto di Reward quindi se siete alla ricerca di un computer ricondizionato un computer fatto bene perché sono tutti disponibili su tutti computer ThinkPad quindi sapete la qualità dei ThinkPad che sono molto elevati ci sono portati HP portati Dell quindi tutti i computer pensati per l'utilizzo per durare nel tempo e volete risparmiare fate un salto sul sito di Reward trovate tante offerte il loro catalogo in continuo allestimento quindi farete del bene all'ambiente e farete del bene anche al vostro portafoglio e beh con questa ultima parte con questo ultimo consiglio si conclude qui questa puntata del podcast di Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ci rivediamo sul blog con le notizie e vabbè sapete dove trovarmi ciao ciao a tutti quanti